Licensing e brand extension sono due tematiche fortemente presenti nelle strategie di numerosi brand. Questo corso offre le basi per saperle conoscere e sviluppare coerentemente all'interno di ogni business. Personalmente mi ha aiutato ad ampliare il mio percorso di studi ed avvicinarmi al mondo del lavoro molto più facilmente. Ho incontrato numerosi professionisti provenienti da diverse realtà, ho potuto confrontarmi con domande e interventi, ma ho anche avuto modo di mettermi in contatto con loro una volta terminata questa esperienza. Gli incontri avvenivano nel centro storico milanese in un ambiente molto professionale oppure nelle sedi lavorative di questi grandi professionisti.